Michele Menghi, coach della Gerardi Cartoedit Serie B2 maschile, ottima vittoria contro Perugia, un bel 3-1 che dà morale, coraggio e che fa vedere che piano piano se il lavoro paga a Città di Castello siamo sulla strada giusta coach. Sì, è stata una bella vittoria, sofferta ma poi alla fine meritata, contro una squadra che come noi lotta per portare a casa l'obiettivo della salvezza. È una vittoria che ci dà sicuramente morale, che ci riscatta un po' della prestazione opaca che abbiamo giocato a Orte e ci rilancia verso questa parte finale del campionato nel quale mancano ancora dieci partite e affronteremo tutte cercando di portare a casa più punti possibili in vista poi dell'obiettivo finale. Poi parleremo della gara di sabato contro Grotta Azzolina, che è la prima della classe, chiaramente come dire, andiamo là però andiamo là per giocarcela coach. Assolutamente sì, noi non abbiamo nessun tipo di pressione, non abbiamo nessun tipo di timore reverenziale. Certo, sappiamo che abbiamo dei limiti importanti nei confronti di una squadra come Grotta Azzolina, però non andiamo a fare da sparring partner come dicevi tu, andiamo a giocarcela. Poi se riusciamo a fare bene, a portare a casa punti, meglio. Se non ci riusciamo, che Grotta, come sappiamo, è un gradino anche due superiore a noi, abbassiamo la testa e guardiamo avanti alla prossima gara. Che margini di miglioramento ha ancora la tua formazione da qui alla fine del campionato? Lo ricordiamo, mancano dieci partite. Ma sicuramente ancora abbiamo dei buoni margini di miglioramento. I ragazzi stanno prendendo sempre più fiducia e consapevolezza in quelli che sono i loro mezzi. Hanno accumulato molte esperienze in questa prima fase del campionato e la stanno riversando ora in questa parte finale, che si vede, spero, sempre più protagonisti. Siete punti 9, se non erro. Il 16 punti in questo momento è l'ultima posizione utile per non retrocedere. Ne mancano 7. Se Città di Castello si confermerà nella fase di crescita, nessun obiettivo è precluso. Assolutamente no. Torno a ripetere, affrontiamo ogni partita con la tranquillità, la lucidità di dover far bene. Poi a fine stagione guarderemo la classifica e vediamo quello che riporta. Se ce lo siamo meritati ci salveremo, se no dobbiamo guardare quelli che sono indietro, guardare quelli che sono stati i nostri errori per poi migliorarci per quello che sarà il futuro della nostra squadra.